Il ritrovarsi alla fine dell'anno per i saluti e gli auguri da parte mia e dell'amministrazione comunale che mi onoro di guidare, penso che sia un atto dovuto a voi con cittadini ed amici sparsi per il mondo, che ci seguite con affetto per vedere il lavoro che gli amministratori portano a termine quotidianamente, dimostrando affetto e vicinanza al nostro Paese. Un anno è passato e tante sono le cose fatte e quelle programmate per la nostra comunità, nonostante la crisi economica mondiale che stiamo vivendo ad ogni livello. Abbiamo finito diverse opere e servizi utili alla nostra comunità, ma mi limiterò ad elencarvi alcune di tutto il lavoro fatto da questa amministrazione, altrimenti vi ruberei una giornata di un'altra intera ed onestamente lo voglio evitare, visto anche il periodo di festa e serenità per ognuno di noi. Permettetemi di ringraziare con affetto e stima gli assessori Peppe Caristo, Antonio Scoleri, Lele Campagna, il Presidente del Consiglio Elisa Salerno, il Capogruppo in Consiglio Comunale Tototedesco, per l'impegno e la passione che ci hanno messo quotidianamente per i risultati che sono agli occhi di tutti. I dipendenti comunali per il lavoro che svolgono quotidianamente, nonostante le tante difficoltà organizzative, i responsabili degli uffici, la giugnere Mario Randoli, il giugnere Gian Domenico Romeo, la segretaria comunale e l'avvocato Carmela Chiellino, il coordinatore Petro Alcaro. Intanto vi comunico che stiamo riorganizzando gli uffici ed i locali del Comune, cercando di eliminare dove possiamo le barriere architettoniche attraverso il trasferimento degli uffici che sono frequentati quotidianamente da voi cittadini, spostandoli ai piani inferiori. Infatti nei locali predisposti per la Polizia Municipale, dai primi giorni di gennaio 2016 saranno spostati gli uffici anagrafe. Sarà creato lo sportello Catospital per le prenotazioni online, per le strutture sanitarie e tutte le pratiche a sostegno delle fasce deboli attraverso l'aiuto e la collaborazione dell'Unione dei Ciechi, presenti sul nostro territorio attraverso il progetto civile con quattro ragazze del luogo. Al primo piano troverete l'ufficio Tributi, Ragioneria e Polizia Municipale, mentre il terzo piano sarà tutto a disposizione dell'ufficio tecnico. Nei prossimi mesi vogliamo rendere poi più funzionale ed operativa la delegazione comunale di Guardavalle Marina, aprendo anche in Marina il servizio Catospital per le prenotazioni sanitarie e ospedaliere. Nel piano di riorganizzazione anche del personale, finalmente siamo riusciti ad avere alla guida del nostro comune un segretario comunale, l'Avvocato Carmela Chiellino, in grado di coordinare insieme all'amministrazione tutti quegli obiettivi che vogliamo raggiungere nel breve e prossimo futuro. Abbiamo un nuovo comandante della Polizia Municipale che è Pietro Alcaro, di cui, vista la sua grande professionalità e disponibilità, ci siamo posti di raggiungere degli obiettivi importanti che vanno verso un servizio efficiente. Puntiamo moltissimo alle opportunità finanziarie che ci daranno i fondi europei 2014-2020, con le linee guide approvate da pochi giorni da parte della regione Calabria e che prevedono sviluppo del territorio sia per i privati sia per gli enti locali. Predisporremo un gruppo di tecnici che ci potranno dare collaborazione per la ricerca di ogni tipo di finanziamento che vada verso lo sviluppo del nostro Paese. Un anno impegnativo che ci ha impegnato e permesso di raggiungere diversi obiettivi. Piazza Carmine, un finanziamento di 615 mila euro con fondi europei PISL che ci ha permesso di realizzare un'opera molto bella e funzionale, rimuovendo un'area degradata che, come potete vedere dalle immagini, ha cambiato totalmente aspetto. Mancano gli arredi, lampioni e panchine che saranno posizionate nei prossimi giorni e poi sarà inaugurata. Ma il finanziamento non è servito solamente per la piazza, ma è l'inizio di un progetto che mira a migliorare tutto il centro storico. Infatti la pavimentazione delle vie Regina Margherita, via Marconi, il piazzale della Chiesa Matrice saranno da stimolo a continuare su questo percorso per un centro storico che deve rinascere. È l'impegno di questa vostra amministrazione che punta a raggiungere questi obiettivi e gli incontri fatti in questo anno che sta per passare. È servito a pianificare e smussare tutte quelle procedure che se ne è discusso nei diversi incontri con la Regione Calabria e i vari sindici del territorio, per non arrivare in preparata ai finanziamenti. Già da adesso vi comunico che Guardavalle è rientrato insieme ad altri 100 comuni della Calabria. All'inizio eravamo 149, adesso siamo 100, siamo rientrati in questi finanziamenti europei che si chiamano strategie e aria interne, predisposta appunto dalla Regione Calabria nella politica di coesione 2014-2020 per un finanziamento complessivo di 200 milioni d'euro, che andranno a quei comuni virtuosi e meritevoli di finanziamento. È dal punto all'ordine del giorno di questa mattina, del 31 dicembre 2012, il Consiglio Comunale, abbiamo proprio approvato le linee guida per il recupero del nostro centro storico, che è propedeutico per essere pronti ad ottenere il massimo di finanziamenti da queste opportunità. Un'altra opportunità che non ci siamo fatta sfuggire è stata quella che attraverso il Galsere Calabresi, con la misura 3.1.2, che prevedeva il recupero di complessi e unità di edilizia storica rappresentativa del sistema economico rurale per la destinazione museale o socio-culturale, e così abbiamo pensato a Torre Giordano, con la sua bellezza e importanza storica, ed attraverso il finanziamento di 40 mila euro abbiamo creato un centro culturale denominato Fora, nonché museo e biblioteca del patrimonio socio-economico, culturale ed architettonico storico guardavallese, che dovrà essere arricchito da reperti storici, incastonato all'interno dell'antica torre d'avvistamento detta Torre Giordano, una delle sette torri sita in via Indipendenza e che inaugureremo a gennaio. Sul lungomare di Guardavalle Marina abbiamo completato la riqualificazione di quell'area abbandonata e degradata attraverso un finanziamento pisli di 350 mila euro. Abbiamo realizzato un intervento importante, con un'area che andava valorizzata e che necessita di ulteriori interventi per renderla ancora di più attraente e frequentata. Un'area sportiva con la realizzazione di un campo in sintetico 60x40, con annesso spogliatorio ed un piccolo parco giochi, che oltre ad essere a totale disposizione dei cittadini, servirà alla crescita dei nostri bambini per un probabile scuola calcio di alta qualità. Con un ulteriore finanziamento di 39.510,39 con fondi FEB Calabria, stiamo per completare la sentieristica, cioè la strada adiacente alla struttura sportiva, manca l'illuminazione che sarà posizionata i primi giorni di gennaio. In primavera, attraverso un rapporto di collaborazione con Calabria Verde, abbiamo programmato un intervento sulla pineta, sempre sul lungomare, che dovrà essere accessibile e soprattutto realizzare un'area picnic. Stiamo lavorando per creare sempre nella stessa area del lungomare, vicino al campo appena realizzato, un'area di sosta attrezzata e funzionale per il roulotte, per tutti quei vacanzieri che decideranno di fermarsi a Guardavalle e godersi le vacanze in un'area bellissima che va tutelata e rispettata. Nel nostro programma elettorale, uno degli obiettivi che bisognava raggiungere era quello di partire con la differenziata e da febbraio 2015 siamo riusciti a iniziare il servizio di porta a porta, con tante preoccupazioni che i cittadini non avrebbero capito e che ci poteva essere un rifiuto al cambiamento voluto da questa amministrazione. Ed invece, già nei mesi successivi, le percentuali raggiunte ci hanno fatto capire che eravamo sulla strada giusta per rendere il nostro Paese migliore e più pulito. Bisogna però continuare ad essere cittadini modello, rispettando anche il territorio, le campagne, le periferie che meritano di essere mantenute pulite e non trasformarle in discariche. E di questo lavoro bisogna ringraziare l'assessore Lele Campagna per il suo impegno a benegazione. L'ambiente pulito potrà garantire anche una diminuzione delle malattie che ci stanno aggredendo, rispettando la natura come facevano i nostri nonni e i nostri genitori. Un ambiente pulito e ordinato serviranno anche come deterrente a quei pochi incivili che ancora continuano a deturpare le nostre bellezze naturali, che sono le vellette comunali e le aree a verde che abbiamo e che su questo ci siamo attivati, infatti dal 14 dicembre, con un contratto per un anno con l'Avergarden di Satriano, che curerà tutto il nostro verde pubblico e le aree di pertinenza comunale, che non devono essere ordinate e pulite solamente nel periodo estivo, ma anche durante l'inverno. E noi abbiamo cambiato, anche su questa usanza, che si preferiva solo per il periodo estivo. Ed il lavoro appena iniziato è già meritevole di complimenti, visto le vellette come si presentano oggi. Un ambiente sano e poco inquinato, dicevo prima, aiuta anche a prevenire tutte le problematiche sanitarie che stiamo subendo ai danni della nostra salute. Ed un altro intervento importante, mirato sull'inquinamento ambientale, lo abbiamo fatto con il finanziamento regionale, che abbiamo ottenuto a giugno di 60.000 euro, con il programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione, dove siamo riusciti a migliorare anche l'aspetto depurativo del nostro territorio. Anche qua potete vedere dalle immagini. Stiamo per completare il finanziamento di 350.000 euro, sempre fondi europei, previsto per le scuole con gli interventi nella sede scolastica già completate nel centro storico, mentre in Marina ci sono stati dei problemi con la ditta, che speriamo di risolverli presto e completare i campetti all'esterno delle aree scolastiche. Attenti alle problematiche scolastiche, ancora un finanziamento di 7.000 euro da parte del Ministero dell'Istruzione per andare ad eseguire indagini diagnostiche dei solai dell'edificio delle scuole medie in Marina, che faremo nel mese di gennaio. Abbiamo ottenuto un finanziamento importante per le nostre scuole, di circa 200.000 euro, a sostegno della produzione di energia dai fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici, con la realizzazione di due impianti fotovoltaici da 40 kW nell'Istituto Compressivo Aldomoro di Guardavalle Marina e Guardavalle Centro. Per quanto riguarda l'energia alternativa, con il posizionamento di pannelli solari sia in Marina e sia nel centro storico, e già completati, che permetteranno un notevole risparmio alle casse comunali. L'apelito Bufali, un finanziamento di 150.000 euro con fondi europei, gestita dal Galsere Galabresi, è stata completata ed aperta in tempi brevissimi. Un'area produttiva del nostro territorio che meritava attenzione, visto anche l'accessibilità della medesima strada che ci porta alle cascate di Pietracupa. Un angolo di paradiso naturale, un percorso trekking che va valorizzato e migliorato, ed in questo contesto abbiamo ottenuto un finanziamento di 19.000 euro, sempre con il Galsere Galabresi, con il PSR Calabria, mirato alla promozione del sistema turistico rurale e diffusione con la realizzazione di una segnaletica granitica che è stata completata ed è anche molto bella. Il 29 dicembre sono stato in prefettura dove il Governatore della Calabria, Oliverio, alla presenza del Vice Ministro Bubbico, ci ha comunicato attraverso la delibera di giunta regionale, la numero 408 del 21 ottobre 2015, la graduatoria dei comuni aventi diritto ai finanziamenti per quanto riguarda i CLS, che sono i contratti locali di sicurezza. Non potete immaginare la gioia che ho avuto e l'orgoglio d'appartenenza a questa nostra comunità quando mi ha comunicato il Presidente Oliverio che Guardavalle ha avuto due finanziamenti, attraverso una graduatoria di merito con un putteggio che ci ha permesso di arrivare al primo posto per il progetto Parco del Sore e dal quarto posto per la videosorveglianza. Un impegno costante di tutti gli amministratori e dei tecnici che hanno lavorato insieme con noi per sei mesi recandoci a Catanzaro e dalla fine gratificati da questi eccellenti risultati. La meritograzia finalmente paga e dalla fine su 17 comuni della provincia di Catanzaro solo 7 sono stati valutati positivamente a finanziamento e Guardavalle, solo Guardavalle, ne ha avuti due, di cui il primo di 200.000 euro per l'intervento di videosorveglianza con il posizionamento di 29 telecamere distribuite su tutto il territorio, Guardavalle Marina 12 telecamere, Guardavalle Centro 9 e Erce della Vecchia 4. L'operazione proposta prevede un impianto di videosorveglianza innovativo e ad alto contenuto tecnologico. Le videocamere saranno di tipo professionale, ad alta risoluzione idonea, soprattutto anche per una visione notturna. Ne verranno posizionate anche sulla statale 106 per il controllo della velocità, sia in entrata che in uscita, per un più ampio obiettivo di controllo e deterrente per chi supera la velocità consentita. Il secondo finanziamento di 600.000 euro, dove andremo a realizzare un centro culturale polivalente e un'aria attrezzata. A lavori eseguiti, tutto il parco sarà servito da un percorso che circonderà il centro culturale, nonché il campetto polivalente, con i collegamenti di tutte le viuzze del centro storico, continuando il lavoro già fatto in Piazza Carmine, ma anche ad alcune arterie principali, come via Raffaele Salerno e via Don Paolo Sorrenti. Il parco conterrà un centro culturale, il campo polivalente da migliorare con il sintetico, il campo boce ed un parco giochi attrezzato. Il centro culturale sarà composto da una hollo dove si troverà anche un guardarobbe e una biglietteria, costituita da un banco di appoggio, una perdiabita adeguate presenze e un armadio custodito, una caffetteria con barra, una cineteca e sala multimediale contenente librerie a giorno, scrivanie complete di polcioncine e tre personal computer. 6 servizi igienici per il pubblico, dotati di un preingresso al locale per i diversamente abili e due antibagni corredati da due lavabbi ciascuno che introducono ai bagni delle signorie e dei signori. Platea, dove in occasione di eventi possono essere disposti sedi per il pubblico, che potrà assistere a spettacoli anche di proiezione, in quanto la sala sarà dotata di un proiettore e anche di un palcoscenico per gli spettacoli teatrali. Un laboratorio teatrale e cinematografico corredato da due grandi tavoli e naturalmente con le sedie. Un ufficio di amministrazione corredato da una scrivania e da una polcioncina direzionale, due polcioncine ospiti, oltre a mobili e personal computer. I camerini per la preparazione degli attori corredati da tavoli e tutto il resto. E due servizi igienici. Un progetto splendido che dovrà contribuire ad una crescita culturale di tutti noi, attivando ogni tipo di iniziative, quali per esempio il gruppo teatrale che si è perso, ci attiveremo con le varie compagnie teatrali del comprensorio, per attivare anche a Guardavalle la stagione teatrale e tante altre iniziative consigliate da tutti voi per dimostrare che Guardavalle ha iniziato una nuova stagione di crescita. È stata completata la gara d'appalto per i lavori di messa in sicurezza delle sorgenti Lonzo Ficarazza ed efficientamento dell'infrastruttura che alimenta il serbatorio di acqua potabile del centro storico per la somma di 120.000 euro. Abbiamo acquisito tutte le autorizzazioni da parte della Regione Calabria di altri tre interventi che mirano alla sicurezza del territorio. Il primo sono l'opera di salvaguardia e protezione del ponte in località Ischia per una somma di 130.000 euro ed anche l'adeguamento della viabilità con la messa in sicurezza dei piloni, una massicciata sulla sfonda, la realizzazione dei pontini sulle strade che portano alle aziende dove ci sono i canali di scolo. Il secondo intervento importante sarà la sistemazione idraulica del vallone Sant'Elia in via Roma e Franci con la somma di 143.275,13 dove andremo a realizzare il muro sotto la casa Andreacchio, la sistemazione del canale e pulizia del canale che arriva fino alla villetta Salerno, incrocio strada provinciale, la sistemazione del canale delle acque dietro le case Geracitano, Galati, Caristo, la sistemazione delle punette e le buche in località Marasà. Il terzo lavoro di intervento di raccolta delle acque piovane e delle aree limitrofe presso il vallone Vincerello andrà in marina, andrà ad eliminare tutti quegli allagamenti che si verificano su tutte le strade interne, quindi via Gullo, via L'Europa, via Petronenni e l'area della stazione. Sarà all'inizio di anno con diversi interventi che oltre a garantire e migliorare il nostro territorio, servirà come economia per le ditte del luogo e anche non del luogo. Sul campo sociale non possiamo dire di non essere presenti sul territorio, attraverso anche azioni mirate sulle facce debole, sugli anziani e sugli emarginati. Attraverso i PAC abbiamo selezionato oltre 200 nuclei familiari che avranno dei contributi scolastici, tic e temenza, spese sanitarie. Circa 50 anziani attraverso il servizio domiciliare sono assistiti da 20 donne in stato di difficoltà che riescono così ad avere una propria dignità. Per il prossimo anno le domande per l'assistenza domiciliare è già arrivata a circa 150 anziani, con il personale addetto naturalmente all'assistenza che aumenterà notevolmente tutte donne del luogo, riuscendo nel nostro piccolo a portare piccola economia a tutte le famiglie. Abbiamo attivo il banco alimentare per circa 100 famiglie che ricevono questi PAC che sicuramente non sono soddisfacenti, ma aiutano. Abbiamo realizzato attraverso il servizio predisposto dell'azienda sanitaria provinciale a domicilio due volte al mese oltre 500 prelievi ad anziani e disabili, senza portarli in giro per ospedali e poliambulatori. Attraverso la collaborazione e sinergia del centro anziani di Guardavalle Centro abbiamo ottenuto finanziamento di circa 50 mila euro per interventi a migliorare la struttura e con questi lavori riusciremo anche a migliorare la nostra guardia medica, spostandola al piano di sopra e rendendola più accogliente e funzionale. Non abbiamo trascurato le problematiche provinciali con le sue incompiute due su tutti, i piloni di Fangemi ed il ponte San Rocco. Con tanti incontri con il Presidente Enzo Bruno e con lo staffa tecnico della provincia di Catanzaro ed anche su queste problematiche i risultati sono stati ottimi. Infatti grazie al decreto del dirigente della Regione Calabria, Dipartimento 6, lavori pubblici, assunto in data 7 settembre 2015, la provincia di Catanzaro, attraverso un finanziamento di 700 mila euro, andrà a completare nel 2016, quindi i primi mesi del 2016, il tratto di Fangemi dove ci sono solamente i piloni. Mentre per il ponte San Rocco è venuto finalmente a Guardavalle il responsabile dell'ufficio straordinario del commissario delegato del rischio idrogeologico della Regione Calabria e del responsabile unico della protezione civile Carlo Tanzi, che, vista la pericolosità del ponte, mi hanno assicurato che si attiveranno entro i primi giorni del mese di gennaio per inserire a finanziamento e completare il ponte. Sono stati consegnati a una ditta di Messina per un importo di circa 500 mila euro per mettere in sicurezza il burrone Borgo Rosso, partendo a Monti e dalla Vetriria Princi. Anche questi sono lavori che inizieranno i primi di gennaio. Cari cittadini, vi voglio assicurare che non si è solamente lavorato per migliorare la nostra comunità attraverso atti ed azioni che avete appena sentito. Ma ci sono anche le brutture di questo Paese e di alcuni personaggi che non hanno capito che i metodi e le azioni che stanno portando avanti per cercare di distruggere o rallentare questa amministrazione non porterà i risultati sperati. Mi spiego meglio. Dal giorno del mio insediamento continuiamo a subire atteggiamenti ed azioni antipatiche che hanno nella mente di questi personaggi il solo scopo di distruggere il nostro lavoro quotidiano, attraverso denunce ed esposti che necessariamente poi siamo tenuti a spiegare a carabinieri, prefetti ed enti preposti, facendoci perdere molto tempo nonostante la trasparenza e legalità degli atti amministrativi prodotti. È purtroppo il metodo retrogrado per contrastare chi ha voglia di fare. Ma non ci fermeremo. Nella mia esperienza amministrativa degli anni scorsi non ho visto questo accanimento contro gli amministratori con esposte denunce utilizzando falsi nomi per poter attirare meccanismi poco democratici. Questo purtroppo è quello che stiamo subendo da persone che vivono nell'anonimato perché non hanno il coraggio di confrontarsi con gli amministratori per la risoluzione dei problemi, ma forse pensano che sarà risolutivo per crearsi paure o altro. Siamo convinti che stiamo lavorando bene e forse questo dà fastidio. Ma di una cosa questi personaggi devono sapere. Crediamo al cambiamento e potete stare certi continueremo su questa strada perché abbiamo dalla nostra parte i cittadini di Guardavalle che hanno creduto in noi e noi non li deluderemo. È giusto mettervi a conoscenza di alcuni episodi che dovete conoscere per farvi un'idea del perché Guardavalle non potrà mai attivare un cambiamento radicale che porta al benessere della comunità. C'è un gruppo di Piseudo cittadini di Guardavalle Marina che dal dicembre 2013 stanno lottando per farci chiudere il mercato rionale del martedì con continue lettere anonime e denunce alle autorità competenti. Non avendo però il coraggio di firmarsi, ma non abbiamo abbassato la testa ed attraverso incontri con l'azienda sanitaria provinciale, i carabinieri in ass ed infine il prefetto, abbiamo trovato la soluzione che il mercato continuerà ad avere la sua bella funzione sociale ed economica nell'area dove è stata creata nel lontano 1995. Per la gioia di questi o di questo bravo cittadino di Guardavalle. Abbiamo dovuto rispondere diverse volte per scongiurare la chiusura della mensa scolastica nelle scuole. Anche qua denunce anonime e mirate, ma avviso questi personaggi che state perdendo solamente del tempo. Volevano bloccarci i lavori del lungomare dove abbiamo realizzato il camping sintetico ed il parco giochi. Alla fine abbiamo realizzato l'opera. Abbiamo un finanziamento di 250 mila euro per Guardavalle Marina, un finanziamento regionale datato 2014, con un ritardo di un anno per la realizzazione del progetto che prevede la raccolta di acque vani e sistemazione di strade nell'area centrale della Marina. Stazione, via L'Europa, via Urgullo, Pietronenni. Perché anche qua abbiamo subito delle denunce da parte di un cittadino di Guardavalle, ma che alla fine realizzeremo l'opera. Con i primi giorni di gennaio sarà mandato in appalto. Episodi da raccontare ce ne sarebbero ancora tanti, ma siamo alla fine dell'anno, periodo di festa e serenità e per questo permettetemi di mandare un messaggio alla minoranza in seno al Consiglio Comunale. Intanto gli auguri per un fine anno pieno di gioia e serenità. Voglio esprimere il mio disappunto ad una parte di opposizione. Guardavalle nel cuore, Forza Italia, che da due anni e mezzo continua ad utilizzare comportamenti ed azioni di rottura per cercare di bloccare ogni atto amministrativo che va nella direzione di ottenere importanti risultati per la nostra città. Mettersi di traverso con denunce esposti interrogazioni e solo voti contrari in Consiglio Comunale in ogni atto discusso la dice lunga sul simbolo che hanno proposto alle elezioni guardavalle nel cuore. Questa amministrazione preferisce i confronti e le discussioni alle azioni poco democratiche utilizzate fino ad oggi. Concludo augurandovi un fine anno ricco di spensieratezza e felicità. Vi auguro un 2016 colmo di ogni vostro desiderio cari concittadini ed amici che ci seguite da ogni parte del mondo. Permettetemi di mandare un messaggio di speranza a tutte quelle persone che soffrono, ai malati che si trovano negli ospedali o nelle proprie abitazioni di non mollare ma di continuare a lottare perché la speranza e la fede in Dio ci fortifica per un futuro migliore per tutti e che possa essere da stimolo anche per diventare più buoni. La cattiveria e l'odio non hanno mai portato pace e noi vogliamo la pace. Buon anno a tutti.